che stai facendo lo faremo quotidianamente che cosa la compattezza e una solidità di squadra hai uno scopo la persona molto schietta quindi dove ti trovi grande difficoltà di dove sei qual è il tuo aspetto tanti giocatori con dei problemi che risultati abbiamo un vantaggio seppur minimo però è che mi Tanto, 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 tanto